Adesso la reale condizione di emergenza della sanità calabrese è sotto gli occhi di tutto il paese e non si può riproporre come unica soluzione il commissariamento già abbondantemente sperimentato in Calabria e che non ha risolto in alcun modo i disagi legati all'assistenza sanitaria ed al contrario ha aumentato il debito. Il senatore forzista Marco Sicla, di capogruppo in Commissione Igiene e Salute, durante la conferenza stampa di ieri tenuta al Consiglio regionale a Reggio, ha illustrato una soluzione che porterebbe risultati immediati all'azzeramento in tempi record del debito sanitario in Calabria. Per dieci anni, nonostante il commissariamento, è aumentato il debito ed è aumentato il numero dei calabresi che si curano fuori regione. La soluzione è un'altra. Apreviamo un decreto speciale Salute per la Calabria e del miliardo di debito sanitario si faccia carico lo Stato che non solo lo ha creato con i suoi commissari ma soprattutto non ha vigilato sulle nomine sbagliate della politica regionale. Azzerare il debito fin da subito è fondamentale perché questo consentirebbe di sbloccare le assunzioni, quindi riempire finalmente di personale e di 1.410 medici che oggi mancano nei nostri ospedali in modo da ridurre le liste d'attesa e dare assistenza in tempi congrui senza costringere pazienti a rivolgersi fuori regione. E questo permetterà alla Calabria di ricevere ogni anno i 360 milioni che lo Stato spende per curare i calabresi fuori regione. In questo modo, ha concluso il senatore Azzurro, avremmo garantito il diritto alla salute per la prima volta in Calabria.